Guardate ragazzi, ma ma che ti stai facendo? Ho messo i pomodori nel balcone della tavola di legno con il velo sopra, li ho fatti essiccare. Noi bacconi li mettessi? Certo perché col sole il pomodoro secco, poi li ho messi oggi nel barattolo con pinoli, aglio, prezzemolo e origano e foglie d'alloro, li ho fatti riposare e ora gli sto mettendo l'olio che man mano... Ma per chi sono questi barattoli? Per me me li vendono al mercato e questo è il pomodoro normale con l'origano che voi lo dovete mangiare come antipasto, se invece lo volete per cucinare mettete solamente pomodoro, olio, aglio, prezzemolo e alloro, non mettete pinoli e origano perché si può fare nelle lenticchie. Ma te li vendi al mercato a qua quanto costa un barattolo? 15 euro quello grande, 15 questo, 12 questo e 10 quello più piccolo. Ma ce l'hai già le clienti che le vogliono? C'è tutte le ordinazioni questi sono, più l'olio, ragazzi è olio di semi, ah di semi, manco chi è buono, è olio di oliva, spiegate, qua io tengo l'olio di oliva, facci vedere dove è quello di semi per friggere, qua è quello di semi per friggere, no di faù lo spagnate, no olio buono d'oliva e no di semi, vabbè ragazzi, ora deve calare tutto, ma ci vai domani, domenica c'è come è caldo domani? No a Mascaluccia mi trovate il giovedì, prendo solo ordinazioni, poi l'altro giovedì, se ancora c'è un pomodoro secco ma a questo tempo posso fare un pomodoro bagnato? Ah il conte si sta per collegare il live di Toc, io mi chiedo a lavare che sogno indossicato, dopo il bagno, devo spiegare la parola subito, ok a tra poco, col conte io mi vado a lavare che sogno tutto indossicato, ma ovvio un bello bicchiere di latte, dopo aver pulito il bagno, vabbè ragazzi a dopo, comunque chi lo vuole il conte accetta la prenotazione, il live 15, 15 euro, 12 euro e 10 euro, il barattolo più grande 20, poi c'è a Brunia, Brunia, 30-35 dipende, vabbè prezzi modici devo dire, a tra poco, artigianale, non ha da mangiare tu mai